Allora ragazzi, allora vi dirò una cosa, domani io avevo un'altra idea per fare un nuovissimo video, cioè volevo caricare un video in cui potevo far vedere le mie macchine, quelle lì americane. E quindi, beh, o vi faccio vedere tutte le mie macchine americane, oppure, beh, faccio vedere le mie macchine europee, poi ragazzi grazie per i setti iscritti, ci arriviamo, arriviamo, stiamo per arrivare a 9, a 10 iscritti, e lì farò un video per ringraziarvi dei 10 iscritti, dei 10 iscritti, farò uno speciale 10 iscritti. Allora, ve lo ripeto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, lasciate tanti like, poche parole spolliciate, perché vi dico, se arriviamo a 10 iscritti, farò un buono 10 iscritti, farò un video per ringraziarvi dei 10 iscritti. A domani e ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Non vedo l'ora proprio di registrare un video nuovo. Se arrivo a 10 iscritti, beh, arrivo grazie a voi che mi avete supportato. Lo so, ieri ho creato, eh, ho creato un canale YouTube, ieri l'ho creato, l'ho creato questo canale. E vi devo ringraziare molto per avermi supportato. Quindi un bacio dal vostro YouTuber di fiducia. Ciao ciao!